benvenuti in un nuovo video di minecraft e oggi assisteremo un party di ghastly che sarà un po da parte però vabbè no volete venire anche in casa direttamente 36 e l'evoluzione ci sta apposta poi ci stanno i pesci che non volevo andare da pesci vendola quindi sono rimasti qua vabbè basta sto pensando o a raccogliere un po di clay oppure mettere un po posto qua perché un po disordinato diciamo per mettere un pochettino appuisce anche un po disordinato quindi piccone piccone spacchiamo tutto qua più che altro vorrei che sia un po più squadrato non tutto sto ghiaccio qua così a caso ma aspetta se ci metto le cose cosa era un toto dai me l'ha sembrato mettiamo via tutto quanto qua allora questo qua così non so se avete visto su facebook la canzone che avevo messo riguardante minecraft però mi aveva ispirato un qualcosina da fare su qualche server però non con per forza altri da parla però non so se farlo o meno non mi è sempre piaciuto fare qualcosa di role play però mai fatto sinceramente quindi sarei alla prima role playata diciamo non so se farò su un pacchetto tecnico perché avevo visto tipo la cosa la il mulino a vento è l'unico pacchetto che mi è venuto subito in mente con con il mulino a vento era giustamente la cosa la la ultima che c'è la blu la blu tricity va via non dovrebbe venire male come da provo non saprei come farlo o meglio a farlo so già come farlo solamente che dovrò convincere altre persone se come idea può andare o meno ah stavo dicendo che ha levito sta bici ma si la rompo via via ok ecco da cos'è quello? slowpoke so che diventerai personal trotto alla te invece salamas diventerà una brioche e stiamo a posto con le mega evoluzioni ok arriviamo fino alla sandstone dopo ripropriamo tutto di terra nice modifichiamo un po' l'ambiente diciamo poi dovrò anche sistemare un po' casa è una banalissima casa così e la sabbia mi so che mi servirà per quello che voglio fare io vediamo vediamo ottimo mamma mia l'è staccionato il volante modifico qua un po' tutto quanto è un mani amato un mani amato ok 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 mettiamo giù tutto ah ho letto sotto i commenti della dell'ultimo pixel che ho caricato ieri anche se vabbè glotti oggi avevate detto che non parlo molto è quello sì vi do ragione è un problema un difetto mio proprio non è che non so prego come dirvelo però è un po' perché mi sono diciamo isolato dal mondo però vabbè è un po' per altri motivi ok sì sto sempre in ts però sto sempre su ts quello che abbiamo pure parlo poco di me anche con gli altri non è che sono nei video parlo poco anche con chip con emo con gg e poi mamma mia quanto sei brutto tu però anzi ti do una mano di andartene via vabbè rimani qua dai su come cavolo si muove sembra sclerato qualcosa ok oh finalmente 1,2,3,4,5 dovrebbero bastare e mi sono sistemato qua un po' l'entrata poi qua come la farò mi devo pensare il primo piano il primo piano lo voglio buttare tutto giù e rifarlo da capo il secondo per adesso ci sta o almeno come è costruito però lo voglio fare no aspetta sembri amplio verso l'alto invece però che ci metto sopra non mi viene in mente niente di qua ci ho fatto vabbè l'orticello che non cago quasi mai diciamo ok non so perché mi rimangono solo questi qua cioè ok in parte lo so in realtà è per i vari pokemon che spawnano e saltano e per rimuoverli c'è un modo sì ma non in questo patch della mod quindi non saprei come togliere o sulle slab sulle slab non dovrebbero spawnare è venuta una mezza idea però dovrei rifare tutto quanto no 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 non ce lo voglio troppa cosa no vabbè poi vede magari rimpiazzerò tutte con le slab però dovrebbe essere già con le slab quello che ci pensa è uno slab non mi ricordo si sono slab però la d'erta non è slab non mi ricordo allora così così potrei farmare dei soldini e farci un piano per gli alberi di sopra anziché andarmi a tagliare qua andrei di là sopra jc torna in casa jc torna in casa ti voglio fare flare blitz mamma mia che danno che si fa da solo qua come ho detto aspetta in casa magari poi vabbè inizierò se non guarisce che non si senteva tanto bene oggi non lo so dopo vi chiedo se c'è vuoi di registrare non lo so qua lo volevo fare in un altro modo io sinceramente però vabbè dovrei ampliarlo dovrei bucare questi blocchi qua 1 2 3 4 e dovrei farlo fino in fondo se no dovrei solo mettere le scarpe qua dietro non saprei come parla vabbè per adesso diciamo che tutto lo finfino se l'ho aggiustato qua un attimino non ho fatto niente a che ma giusto per direvi come potrei fare sia qua fatemi vedere voi qualche idea su facebook me la mandate e poi anche per qua come potrei rinnovarla tanto vi faccio vedere un po' com'è ah e poi appena tornare la gg si continua quella palestra anzi no aspetta fammi ricontinuare quella cosa che avevo iniziato a fare di sotto aspetta dovrei avere un bel po' di stone adesso da buttarci dietro se ne ho mamma mia qua so già come fare la statina per arrivarci farò vedere qua qua com'è farò righe non to completamente giusto per aiutarci un po' mettere in mano le cose quindi finiamo qua e ditemi cosa potrei fare perché tra un po' dovrebbe finire la serie quanto ho capito quindi devo cercare un'idea squirtle però tiro io qualche pokeball e via ce la catturò bene non mi ricordo se ce l'ho quindi proviamo bag pokeball perché ghastly ah ok me lo male moribald dragon rush aia no ah beh la c'ho badra aah 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 what rai metter altriblock che cos'è? allora cadì giù? cadì giù? cadì giù? niente vabbè continuo qua un po' il ponticello perchè poi li faremo in un altro modo del tipo che se lo farò in legno sicuramente però non ora perchè ci vorrò mettere tipo le fence quindi oppure ci potrei mettere un'altra cosa più bella dovrei avere da qualche parte le rail e ci metto le rail aspetta se ne ho poche lo faccio solo al centro ne ho poche ne ho poche no non mi bastano quindi la prossima volta andrò a cercarne altre quindi per adesso è tutto ciao a tutti e domani farò un'altra puntata da pixmon non so non so come la farò però vabbè la farò però aspetta che ci penso o meglio non so cosa ci farò non so 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 non so